Noi abbiamo, come vi stiamo dimostrando, altre priorità che sono l'economia e il lavoro e invece il palazzo ha priorità che sono sempre interessi di bottega senza che scendiamo poi nello specifico perché ben lo sapete. Quindi noi abbiamo un'idea di politica che è fatta di cose concrete e chi ha un'idea di politica, di tutela, di uno status quo che fa comodo a tante persone.